Incontro in provincia per i lavoratori del consorzio di Bacino Salerno 2 non ancora ricollocati. La richiesta è di un incontro con l'assessore regionale a Ramo per sbloccare la situazione. L'Italia sta diventando dalla patria del diritto al luogo dove i lavoratori per fatture del loro interesse, i loro diritti, devono salire sui tetti. E questo non dà fiducia nelle istituzioni e soprattutto con la disperazione non si ragiona, non è un problema di caldo. Il problema è che il caldo c'è nel momento in cui da marzo i lavoratori non prendono lo stipendio, non sanno se sono più lavoratori dipendenti. Quindi si sta portando in tutti i modi l'esasperazione e questo non è buono. Faccio un appello al vicepresidente che è anche un parlamentare regionale eletto qua in Campania, quindi al vicepresidente dell'onorevole Bonavitacola, di convocare al più presto l'incontro. Do atto al presidente Strianese che sta facendo questo tavolo di mediazione, condanno l'assenza del commissario Corona e soprattutto vorrei che qualcuno spiegasse a 51 padri e madri di famiglia come vivere se da marzo non portano un euro a casa.